Il peccato originale non sono padri della Chiesa ma teologi e pensatori di tutti i tempi non soltanto nell'ambito del Cattolicesimo ma anche del pensiero universale che è Sant'Agostino e vedremo il pensiero di Sant'Agostino che posso già anticipare il primo Sant'Agostino, non so se questa sera riusciremo a esaurirlo tutto quindi sicuramente il primo lo vedremo vedremo che essere fondamentalmente perfettamente in linea con tutto quello che abbiamo visto, constatato e maturato fino a questo momento che riassunto in due parole è questo lo stato pensato da Dio per gli esseri umani era quello della verginità con una modalità di moltiplicazione degli esseri umani fondamentalmente a noi ignota la riproduzione sessuata degli esseri umani come noi la riconosciamo viene dopo il peccato originale per alcuni autori una minoranza esso proprio fu il peccato originale tutti sono d'accordo sul fatto che esso fu conseguenza del peccato originale fino ad ora vedremo che Sant'Agostino, adesso andremo a leggere i brani nelle opere diciamo così giovanili anche fino però a un certo punto anche abbastanza fino intorno a 45-50 anni ha mantenuto perfettamente una coerenza con il resto dei padri della Chiesa dopodiché a un certo punto sotto l'influsso anche di alcuni fattori come vedremo ha corretto la sua posizione fondamentalmente ritenendo cosa che avrebbe fatto su questa scia dopo di lui, Sant'Omaso d'Aquino fondamentalmente ritenendo la riproduzione sessuata un fatto naturale fondato sulla natura dell'uomo anche sulla conformazione morfologica dell'uomo e quindi di per sé perfettamente compatibile anche con lo stato come si chiama ci dovremmo essere già familiarizzati con questa terminologia con lo stato pre-lapsario quindi anche se la Sacra Scrittura di fatto e su questo si appoggiano testualmente molti autori afferma l'unione tra Adamo ed Eva dopo la colpa d'origine che è quella che genera Caino nel capitolo 4 dell'arrivo della Genesi però di per sé è un fatto compatibile con la natura dell'uomo e qui abbiamo una rottura una rottura con tutta quanta la tradizione precedente è il primo ad affermare questa cosa, Sant'Agostino come già accennavo non afferma solo questo questo è il secondo Sant'Agostino quindi il pensiero se posso dire una mia opinione personale ordinariamente, capite nella vita anche di un pensatore di un uomo, di un uomo anche di fede, di un uomo di cultura il pensiero maturo supera il pensiero giovanile ordinariamente salvo qualche eccezione personalmente se si capisce un pochino quello che penso in questa cosa, ahimè c'è un'eccezione il problema è che il peso che poi Sant'Agostino avrebbe avuto nel corso dell'evoluzione del pensiero teologico occidentale sarebbe stato immenso per cui nonostante quello che si pensa Sant'Agostino ha fortentissimamente influenzato Sant'Ommaso tant'è vero che si dice un adagio c'è un adagio nello studio negli studi filosofici e teologici cioè che Augustinus non intellegitur sine toma cioè è forte questa frase cioè Agostino non si capisce senza Sant'Ommaso perché è vero che Sant'Ommaso molte volte essendo su una linea diciamo così teoretico-ermeneutica differente perché tutti quanti sanno che Sant'Ommaso è stato uno dei protagonisti del tentativo di rileggere l'aristotelismo in chiave cattolica sulle orme di Sant'Alberto Magno grazie alle scoperte e agli studi medievali mentre come è noto Sant'Agostino presenta un impianto di pensiero filosofico fortemente influenzato sia dal platonismo che dal neoplatonismo quindi la perenne guardate che tuttora oggi Platone e Aristotele hanno fatto la storia del pensiero perché sia che che ci si sia inseriti in una di queste come dire in uno di questo filone che li si sia rielaborati che li si sia rimessi a posto comunque guardate che il pensiero filosofico e teologico anche di chi ha voluto assumere posizione borderline gira sempre intorno a questi due autori sempre quindi non con Platone e Aristotele che poi diciamo così hanno la versione diciamo così cattolica in Agostino e Tommaso insomma però nonostante ripeto il superamento diciamo così o anche la diversità di posizioni che Sant'Ommaso ha manifestato in tante circostanze nei confronti di Sant'Agostino gli riconosceva indubbiamente quell'autorità immensa che ha nella teologia occidentale nonostante che i padri della Chiesa Latina siano quattro perché non c'è solo Sant'Agostino restano pure Sant'Ambrogio e San Girolamo abbiamo visto il pensiero di Sant'Ambrogio e San Girolamo essere perfettamente in linea con quello che abbiamo visto fino adesso e c'è anche San Gregorio Magno che non è stato affrontato dal testo del del Barontini quindi presumibilmente o San Gregorio Magno che viene un pochino più avanti però San Gregorio Magno viene a cavallo tra il VI e il VII secolo lui è stato papà dal 590 al 604 dopo Cristo quindi stiamo un po' più avanti già con l'impero romano d'Occidente caduto quindi c'è tutta una situazione anche storico culturale differente San Gregorio Magno si è scritto da tante cose ma si è trovato insomma con le calate dei barbari che arrivavano verso Roma quindi c'era un contesto storico diciamo molto adatto all'approfondimento di tematiche diciamo così speculative no? quindi forse dipende da questo in ogni caso questo è il quadro quindi andiamo subito a leggere i testi per non dilungarci eccessivamente quindi non perdere tempo perché Sant'Agostino insomma ha una bella ha una bella rassegna stampa diciamo così da da approfondire allora punto primo qualche doverosa nota biografica Sant'Agostino nacque a Tagaste nell'attuale Algeria nel 354 il padre si chiamava Patrizio non era credente e la madre Monica è invece una fervente cristiana che hanno iniziato dalla chiesa penso che la storia di Sant'Agostino la conoscano un po' tutti no? Santa Monica per anni 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 è pregato davanti al Santissimo Sacramento alla Messa tutti i giorni che il figlio si convertisse e poi il Signore l'ha esaurito al di là di ogni aspettativa dopo 30 anni di preghiera si è convertito si è fatto prete poi si è fatto monaco poi è diventato vescovo poi è diventato un grande vescovo anche il dottore della chiesa quindi Sant'Agostino giovere spirito molto molto vivo intelligenza molto lucida e uomo molto corto aderì durante l'età giovanile al manicheismo pericolosissima eresia e ci rimase insomma coinvolto per circa una decina d'anni insegnò grammatica a Ctacaste e poi retorica a Cattagine uomo di straordinaria cultura si trasferì poi a Roma e poi ancora a Milano quando era ancora giovane molto giovane si legò ad una donna senza sposarla che gli diede un figlio che ha Deodato che morì a 19 anni la permanenza a Milano per Sant'Agostino fu il colpo di grazia perché come molti sanno Sant'Agostino si convertì e poi chiese il battesimo fu battezzato da Sant'Ambrogio pescovo di Milano la notte di Pasqua dell'anno 387 quando Sant'Agostino ci aveva significativamente peraltro 33 anni battezzato 33 anni da Sant'Ambrogio quindi Sant'Agostino scusate ha deciso di tornare in Africa ma nel frattempo era venuto in Italia la mamma che lo raggiunse ad Ostia e d'Ostia morì prima che si imbarcassero torna in Africa si stabilisce prima a Tagaste poi si rega ad Ippona dove fu ordinato da prima sacerdote e poi vescovo rimase vescovo per 34 anni fino alla data della morte che è il 430 fu un campione per la difesa della vita ortodossa contro le desie soprattutto dei pelagiani e dei donatisti a Sant'Agostino la chiesa deve un tributo insomma unico perché appunto il concilio di Orange e i concili che hanno condannato queste due frange eretiche pelagiani e donatisti sono stati la ratifica fondamentalmente del pensiero di Sant'Agostino pensiero che la chiesa cattolica ha fatto suo soprattutto per quello che riguarda la grazia quindi come funziona la grazia di Dio come si riceve la grazia di Dio come operano i sacramenti cioè i sacramenti operano exopero operato la chiesa lo ha diciamo cominciato a mettere a nero su bianco a seguito della polemica di Sant'Agostino contro i donatisti i quali appunto sostenevano che se c'è un ministro indegno ce l'abbiamo un sacramento che il sacramento non è più valido attenzione sempre alle stupidaggini circolanti sulla validità dei sacramenti un sacramento è sempre valido purché ci sia un ministro validamente ordinato nella chiesa cattolica nel grado secondo dell'ordine sacro cioè il sacerdozio ministeriale che celebra sempre in maniera valida purché abbia l'intenzione di fare ciò che fa la chiesa vero che in tante circostanze può celebrare in maniera illecita se un ministro sta in peccato mortale se un ministro è sospeso a divinis se un ministro è scomunicato se un ministro ha lasciato il ministero perché si è sposato si è stato dimesso dallo stato clericale e cose di questo genere quando celebra pecca mortalmente o se il ministro non sta in comunione col suo vescovo o se il ministro non sta in comunione con il romano pontefice sono tutti casi di celebrazione illecita della per esempio santa messa ma illecita è cosa diversa da invalida ok la messa è invalida soltanto se il sacerdote non usa il pane alzico il vino cambia la formula della consagrazione a capoccia sua non dice quello che deve dire e con l'intenzione di fare ciò che fa la chiesa è stop tutta questa roba qui è frutto della polemica di Sant'Agostino contro i donatisti quindi i meriti diciamo così di quest'uomo nei confronti anche di ciò che la chiesa è sono assolutamente iniscutibili andiamo a vedere su quello che ci riguarda cosa ha scritto cominciando dal De Genesi contro Manicheos perché le prime opere di Sant'Agostino sono stato ovviamente contro i Manichei che per tanti anni l'avevano ingannato e quindi ne ha confutato gli errori attraverso gli scritti no? fu scritta quest'opera subito dopo la conversione tra il 388 e il 389 quindi per confutare fondamentalmente le critiche dei Manichei contro l'Antico Testamento e contro i primi capitoli del libro della Genesi contro la quale si diffondevano il popolo cristiano obiezioni e domande maliziose che giungevano a turbare la fede più semplice primo passo dell'opera qui veramente ascoltando niente di nuovo tutto in linea con ciò che abbiamo sentito lo sentiremo noi stessi siamo nella Genesi contro Manicheos questo è un testo facilmente reperibile è di una città nuova è una collana patristica riferimento al 19,30 quanto a quest'altra frase della scrittura li creò maschio e femmina e Dio li benedisse dicendo crescete moltiplicatevi procreate e riempite la terra si vuole del tutto giustamente la questione in qual senso debba intendersi l'unione del maschio e della femmina prima del peccato e prima di questa benedizione con cui Dio disse crescete moltiplicatevi procreate e riempite la terra ascoltiamo bene è da intendersi in senso carnale o in senso spirituale senza dubbio c'è lecito intenderla anche in senso spirituale in modo da ritenere che dopo il peccato fu molto verosimilmente trasformata in fecondità carnale dopo il peccato in precedenza infatti l'unione del maschio e della femmina era casta corrispondente al fine dell'uomo che è quello di dirigere e a quello della donna che è quello di ubbidire oltre a ciò la procreazione spirituale di gioie intellegibili e immortali riempiva la terra cioè dava vita al corpo e lo dominava lo teneva talmente sottomesso che l'uomo non aveva a soffrire da parte di esso alcuna opposizione e alcuna molesti si deve credere così per il fatto che non erano ancora nati i figli di questo mondo prima che i genitori peccassero in effetti i figli di questo mondo generano e sono generati come dice il signore quando insegna che la generazione carnale deve essere disprezzata in confronto della vita futura che a noi è promessa ora il testo è chiaro lo commentiamo ma è abbastanza chiaro allora anzitutto afferma che prima del peccato questo invito questo comando divino di crescere e moltiplicarsi dice che si può tranquillamente intendere anche in senso puramente spirituale quindi chi l'ha detto che crescete e moltiplicatevi significa riproducetevi sessualmente non c'è scritto questo nel testo cioè spiega la procreazione di gioie intellegibili e immortali quindi prima del peccato afferma ancora esplicitamente l'unione del maschio e della femminile era casta attenzione che qui per casta non si intende la castità connegale ma si intende la virginità perché perché nella parte conclusiva del brano cita i figli di questo mondo generano e sono generati quindi fa riferimento al famoso questo ormai è un brano che abbiamo familiarizzato discorso di Gesù nella disputa con i Sadducei sulla risurrezione dove dice i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marite ma quelli che sono giudicati degni della risurrezione non prendono né moglie né marito quindi il principio che abbiamo già visto è dal momento che la condizione glorificata quindi quando non avremo più niente a che fare con il peccato paradisiaca non prevede l'unione sessuale certamente tale unione non era prevista nella condizione del paradiso terrestre cioè non c'era il paradiso celeste non c'era nel paradiso terrestre la spia di questo è che si parla di riproduzione sessuata dopo il peccato originale questo santo Agostino lo riconosce scrive chiaramente dopo il peccato fu molto trasformata in fecondità carnale non prima si deve credere così afferma esplicitamente per il fatto che non erano ancora nati i figli di questo mondo i figli di questo mondo prima che i progenitori peccassero ora questo è un dato biblico oggettivo non confutabile e Sant'Agostino si è poi caratterizzato da una grande attenzione e prende atto e quindi si situa tranquillamente sulla scia di Sant'Ambrogio il suo maestro di origine di San Girolamo di San Giovanni di Isostomo di San Girolamo di Nissa di San Clemente Alessandrino eccetera eccetera no seconda opera il Decadechizandis Rudibus questa scritta qualche anno più in là intorno a 400 fu un'operetta scritta su richiesta di un suo amico di Cartagine e si prefigge come scopo di esporre la preparazione da impartire ai precatecumeni cioè a coloro che si trovano nel momento iniziale dell'itinerario che li porterà al catecumenate e poi al battesimo che di solito veniva amministrato la notte di Pasqua sentiamo questo brano anche il Decadechizandis Rudibus è facilmente reperibile non ci sono voli più indaglici da fare ed è edito anch'esso dalla colonna patristica quella arancione per farci capire con gli addetti ai lavori di Città Nuova cito il brano che è 18,29 Dio creò pure l'uomo a sua immagine affinché come egli con la sua impotenza è a capo dell'intera creazione così l'uomo con l'intelligenza tramite cui è in grado di conoscere e venerare anche al suo creatore sovrastasse tutti gli animali della terra poi la donna perché aiutasse l'uomo attenzione perché su questo più avanti dirà dopo il contrario non la creò in vista della concupiscenza della carne quindi in che senso era aiuto perché doveva essere lo strumento per procreare no afferma qui non la creò in vista della concupiscenza della carne dal momento che essi a quel tempo prima che la mortalità castigo derivante dal peccato si impossessasse di loro non avevano corpi corruttibili non avevano corpi corruttibili quindi la riproduzione sessuale ha a che fare con la corruttibilità e con la corruzione la riproduzione sessuale scusate riprendo la citazione ma la creò perché l'uomo avesse gloria la donna la creò ogni qual volta la precedesse nel cammino verso Dio e si offrisse come modello nella santità e nella pietà così come l'uomo fosse motivo di gloria per Dio ogni qual volta si conformasse alla sua sapienza quindi nonostante che siano passati dodici anni Sant'Agostino continua ad affermare che prima della trasgressione l'unione fra i progenitori era solo spirituale i loro corpi non erano soggetti alla corruzione Dio non aveva creato la donna in vista della concubiscenza della carne e quindi evidentemente l'unione sessuale sembrava incompatibile con le loro condizioni quindi la condizione per la quale i progenitori nella quale e per la quale furono creati era evidentemente la virginità l'unione fisica sopraggiunse dopo il peccato originale e a causa di esso quando la morte si impossessò di loro questo modo di generare è proprio dei mortali niente di nuovo sotto il sole direbbe il direbbe il coeret l'abbiamo già viste tante volte queste cose ancora nel debono coniugali ancora nel debono coniugali Sant'Agostino sta ancora fondamentalmente in questa prospettiva anche se comincia ad intravedersi qualche breccia siamo semplicemente un anno dopo nel 401 Sant'Agostino continua a stare fondamentalmente in questo orizzonte ma non sembra essere così più tanto sicuro allora che cosa era successo abbiamo già sentito parlare di questa gente c'era un eretico gioviniano che a Roma aveva sollevato e aveva scatenato un'odesia quindi esaltava il matrimonio denigrando la verginità consagrata attenzione che gioviniano oggi ha diversi seguaci in giro quindi sapete che ogni tanto si dice ogni tanto ritornano ecco perché che la verginità sia condizione eccellente sul matrimonio è tuttora dottrina insegnata dalla chiesa che qualcuno ne pensi insomma no comunque tale errore quindi che il matrimonio superiore alla verginità fu condannato dal papa dal papa sedicio a Roma e da Sant'Ambrogio a Milano ora però cosa è successo che i discevoli di questo gioviniano che cosa hanno detto dicevano che i loro nemici i loro avversari per confutare gioviniano dicevano che questi non sanno difendere la verginità senza svalutare il matrimonio quindi svalutano il matrimonio è chiaro che Sant'Agostino d'Avesco dice no questa è una accusa brutta questa è una accusa pericolosa quindi bisogna smarcarsi da questa accusa e allora che cosa fa per chiedere la verità della dottrina cattolica scrive quest'opere del demonio coniugale che da una parte afferma la bontà del matrimonio senza mezzi termini e dall'altra la superiorità della virginità consacrata sul matrimonio ora cosa scrive anche questo testo è disponibile nella collana matristica qui siamo al 8,8 non è necessario a questo punto che noi analizziamo risolviamo il problema di come sarebbe potuta nascere la prole dei primi esseri umani se questi non avessero peccato Dio li aveva benedetti con le parole crescete e moltiplicatevi e riempite la terra ma l'unione fisica non può essere propria ancora che dei corpi mortali e la condizione mortale i loro corpi la meritarono appunto con il peccato quindi ancora in questo brano Sant'Agostino sta sempre dentro l'alvio della tradizione chiamiamola così dominante nei primi secoli del pensiero cristiano cattolico Agostino sembra quindi dare per scontato seguendo questa tradizione che se i genitori i progenitori non avessero peccato i figli sarebbero nati in un modo diverso è vero che dice non è necessario a questo punto che noi analizziamo perché tanto quel modo non si può sapere ma sicuramente c'era ok evidentemente anche qui sullo sfondo c'è sempre il famoso brano di Luca 20 34-36 la polemica di Gesù con i farisei lo afferma che i figli dell'altro mondo non prendono né moglie né marito più avanti nella stessa opera Sant'Agostino afferma in effetti sulla questione si sono dati parecchi e diversi valeri e se si volesse esaminare quale di essi si accordi nella maniera migliore con la verità delle divine scritture bisognerebbe ricorrere a una lunga trattazione i nostri progenitori se non avessero peccato avrebbero potuti avere figli anziché attraverso la relazione carnale in qualche maniera diversa per dono del creatore onnipotente dato che egli potè parnascere loro stessi senza genitori poter formare il corpo di Cristo nel grembo di una vergine per parlare in maniera intellegibile anche a coloro che non credono poter assicurare la riproduzione delle api senza o no sessuali ora sembra non cambiato niente ma già qui se notiamo l'espressione i nostri progenitori se non avessero peccato avrebbero potuto avere figli anziché attraverso la relazione carnale in qualche maniera diversa quindi vedete che usa il condizionare quindi non è che dice se non avessero peccato i progenitori sicuramente non avrebbero dato alla luce i figli come li danno alla luce dopo introduce questa piccola cosa pur rimanendo fondamentalmente fedele al pensiero no e comincia ad aprire a questo punto continuiamo la lettura ad una serie di possibili ipotesi teorie più che altro sulla generazione degli esseri umani prima del peccato d'origine ecco che cosa scrive più avanti o forse dal principio a quegli uomini fu creato un corpo uno spirituale ma solamente animale perché con il merito dell'obbedienza diventasse qua spirituale e l'immortalità fu sottenuta non dopo la morte che penetrò sulla terra per il via del diavolo e fu il castigo del peccato ma per quella commutazione che indica l'apostolo quando dice per noi i viventi superstiti insieme ad essi saremo rapiti sui anubi in cielo verso il signore allora dovremmo intendere che quei corpi che costituirono la prima coppia fossero creati mortali all'origine ma che tuttavia non sarebbero morti se non avessero peccato dunque in questa condizione tali corpi si sarebbero potuti riprodurre anche attraverso l'atto poligrano attenzione ma si sarebbero accresciuti fino a un certo limite senza arrivare alla vecchiaia oppure sarebbero arrivati anche alla vecchiaia ma tuttavia non alla morte fino a che la terra fosse colmata dalla loro moltiplicazione benedetta dal signore allora e qui il problema è che vedete che se si comincia a porre su una linea differente allora non è ancora una negazione ma il passaggio ulteriore che fa Sant'Agostino è questo dice bene chi l'ha detto che il corpo dei progenitori prima della colpa d'origine era un corpo spirituale qui c'è il riferimento a le espressioni paurine che parla di corpo psichico soma psichicom nella prima lettera e di corpo spirituale cioè soma pneumaticom allora il discorso l'adagio comune della patristica era siccome la condizione dell'origine era una condizione divina eminentemente spirituale perché si godeva tutta l'altro una serie di benefici di grazie straordinarie spirituali preternaturali soprannaturali dal signore eccetera eccetera quindi qui dentro non poteva entrarci una condizione animale psichica si dice in greco psichikon d'accordo perché psichikon significa animale perché anima non è soltanto l'anima spirituale ma è anche l'anima animale gli animali si chiamano animali cioè anima poi ci aggiungi le o lì se è purale no? quindi però lui dice una cosa ma forse questi corpi erano stati creati mortali ma non sarebbero morti se non avessero peccato però quindi se sono stati creati mortali vuol dire che la condizione protologica non è tutta spirituale ma è già animale con la differenza che se fossi rimasto fedele ti saresti in qualche modo nobilitato infatti concludo dicendo dunque in questa condizione tali corpi si sarebbero potuti riproporre anche attraverso l'atto coniugale riprodurre scusate anche attraverso l'atto coniugale ma si sarebbero accresciuti fino ad un certo limite senza arrivare alla vecchiaia oppure sarebbero anche arrivati alla vecchiaia ma tuttavia non alla morte fino a che la terra fosse colmata la moltedicazione del signore ecco il passaggio da questa breccia Sant'Agostino avrebbe poi scritto tutto quello che scrive più avanti che vedremo però qui la linea è diversa da quella degli autori precedenti sappiamo bene che per essi l'unione carnale è stata una concessione di Dio agli uomini per avere dei discendenti che continuassero il genere umano subentrando coloro che muoiono ma dopo il peccato originale e veniamo adesso al De Genesi ad Litteram che è l'opera dove questo travaglio diciamo così interiore giunge a compimento e si può dire che Sant'Agostino cominci a realmente cambiare idea rispetto alla sua convinzione degli scritti più giovanili come nota l'autore quest'opera è stata scritta in circa 15 anni da 401 circa al 415 e attenzione nei primi libri dell'opera Sant'Agostino quindi quelli scritti nel 400 e 401 è chiaro che sta in linea con quello che scrive nelle altre ma più avanti dal momento che quest'opera ha richiesto lunghi anni se ne risorsa allora il primo passo dell'opera che appunto dice questo in realtà beh che sembri che l'ordine crescita e moltiplicata e ripete la terra supponga che ciò non potesse avvenire senza rampresso con il gara del maschio e della femmina cosa che sarebbe un altro indizio che i corti erano mortali si potrebbe tuttavia affermare che ci potesse essere un altro modo di unione nei corpi mortali in tal caso i figli sarebbero nati da un fervido sentimento di amore e di benevolenza privo di qualsiasi sensualità del corpo corruttibile ed i genitori senza morire avrebbero avuto come successori figli non destinati neppure essi a morire fino a quando la terra non sarebbe stata ripiena di uomini immortali in tal modo dopo essersi formato un popolo giusto e santo come quello che speriamo dopo la resurrezione sarebbe stato messo anche un termine alle nascite una simile ipotice dovrebbe essere avanzata ma in qual modo possa essere sostenuta è un'altra faccenda quindi ancora all'inizio del degenesi ad litteram Sant'Agostino è ancora dentro è ancora dentro potevano nascere in un altro modo sì non con un amore coinvolgente nell'amplesso carnale che è proprio dello stato di corruzione ma con un amore di benevolenza privo di qualsiasi sensualità tipica del corpo corruttibile e quindi i genitori immortali danno alla luce figli anch'essi immortali fino a quando la terra non sarebbe stata riempita come il signore voleva e poi quello che sarebbe successo chi lo sa insomma no dice questa ipotesi potrebbe essere avanzata in quale modo possa essere sostenuta è un'altra faccenda ok ora nel libro nono però scritto diversi anni dopo Sant'Agostino cambia opinione e andiamo anche qui a leggere orbene bene se ci chiediamo per quale motivo era necessario quell'aiuto la donna l'ho accennato prima ecco un aiuto simile a te dice no l'aiuto non era le opere giovanili per la procreazione ora sentiamo per quale motivo era necessario quell'aiuto con ragione ci si presenta alla mente solo quello della procreazione dei figli dice al contrario così come la terra è d'aiuto al semi per la produzione della pianta dall'unione dell'uno e dell'altro questa ragione della creazione e dell'unione del maschio e della femmina come pure la benedizione non fu abrogata neppure dopo il peccato dell'uomo e dopo il suo castigo quindi dice attenzione questa cosa c'era prima e non è manco stata abrogata un peccato originale anzi in realtà sebbene la scrittura ricordi che i nostri progenitori ebbero rapporti sessuali generarono figli solo dopo essere stati gacciati dal paradiso io tuttavia non vedo che cosa avrebbe dovuto impedire che per loro ci fosse una onorata unione matrimoniale e il talamo intemerato anche nel paradiso Dio infatti se fossero vissuti nella fedeltà e nella giustizia e lo avessero servito nell'obbedienza e nella santità avrebbe concesso loro di generare figli con il loro seme senza l'ardore disordinato della concupiscenza senza la fatica e il dolore del patto quindi attenzione c'è uno step ulteriore prima prima parlava di figli che sarebbero nati da un fervido sentimento di amore e di benevolenza privo di qualsiasi sensualità ora parla di figli nati nati con il seme con il seme con il loro seme tuttavia tuttavia ancora senza l'ardore disordinato della concupiscenza quindi immagina una unione carnale senza concupiscenza a questo punto della maturazione del suo pensiero cito dal testo Agostino è ormai convinto che il progetto originario di Dio per il generale umano prevedesse la generazione dei figli con il loro seme attenzione anche prima del peccato l'unica differenza quindi con l'attuale condizione post-apsali è che ciò sarebbe avvenuto senza l'ardore disordinato della concupiscenza unico e ovviamente senza il dolore del parto che Genesi 3 presenta come castigo quindi come conseguenza diretta del peccato originale poco più oltre Sant'Agostino continua perché dunque i nostri progenitori ebbero rapporti sessuali solo dopo essere usciti dal paradiso si può rispondere facilmente che la ragione sta nel fatto che essi subito dopo la creazione della donna e prima di avere rapporti sessuali commissero la transgressione per causa della quale furono destinati alla morte e furono che ci ha detto proprio la loro felicità uno potrebbe anche dire che Dio non aveva ancora dato l'autorizzazione della donna nell'amplesso coniugale questo è posizione che abbiamo già trovata nei primissimi capitoli ricordiamo era la posizione di Clemente Alessandrino che dice che fecero le cose prima del tempo quindi per la stragrande maggioranza degli autori il fatto che l'unione sessuale abbia avuto luogo solo dopo la cacciata del paradiso è una prova sicura che essa non faceva parte del piano di Dio e che la condizione naturale della prima coppia era la virginità Agostino invece ipotizza che ha solo mancato il tempo cioè secondo Agostino cosa per esempio questa smentita anche se i piani sono differenti da le divilazioni fatte a Gesù a una serva di Dio e a Luisa di Carreta cioè dice Santo Agostino appena creata la donna ha fatto subito il peccato originale immediatamente e quindi non c'è stato tempo dice cominciano a creare la scrittura dice che si uniscono sessualmente dopo il peccato ma se l'hanno fatto subito ce l'hanno fatto ma con tempo a crearla hanno già fatto il peccato originale e quindi è chiaro che si uniscono dopo il peccato originale ma questo non prova che non si sarebbero in questo modo prima del peccato originale ora le liberazioni perché conosce un po' la divina volontà di Gesù la serva di Dio Miserica e Carreta questa cosa la contraddicono perché Adamo è stato di moltissimi anni diversi anni non parla certamente di una cosa che ha conuto immediatamente ha fatto tanti atti nella divina volontà prima della colpa di origine quindi questo argomento non si può utilizzare se è vero quello che Gesù ha detto alla serva di Dio questa ricca rete attenzione quindi Agostino ipotezia che è mancato il tempo oppure dice l'hanno fatto prima del tempo e qui si ricollega lo ricorderemo ho già evidenziato alla concessione di Clemente Alessandrino non aveva l'hanno fatto prima del tempo quando ancora non avevano avuto il permesso da Dio Sant'Agostino prosegue andiamo sempre a leggere ora ci chiediamo per quale aiuto all'uomo fu fatta la donna se nel paradiso non erano leciti i rapporti sessuali per generare i figli quanti pensano così credono forse che sia peccato ogni accoppiamento carnale poiché è difficile non precipitare un uvizio contrario quando si vuole evitare in modo errato un altro uvizio quindi Agostino procede quindi non soltanto dice no l'aiuto è l'aiuto per la popolazione ma va ancora oltre e per cos'altro l'avrebbe creato quest'aiuto se non era per questo quindi capite che c'è un progresso egli sembra addirittura essersi dimenticato di quanto aveva scritto nel terzo libro quando aveva avanzato l'ipotesi che senza il peccato nel paradiso i figli sarebbero nati da un fervido sentimento d'amore e di benevolenza vivo di qualsiasi sensualità del corpo conduttibile e senso l'amplesso coniugale del maschio e della femmina Agostino invece più avanti in questo contesto dice perché dunque non dovremmo credere che i nostri progenitori prima del peccato potessero comandare agli organi genitali per procreare figli come comandavano le altre membra che l'anima è solita eccitare senza alcun punito della concubiscenza per compiere qualsiasi altro atto perché allora dovrebbe sembrare incredibile che per i primi uomini Dio formasse i corpi di tal natura che se non avessero peccato incontrato subito quella sorta di malattia che le avrebbero condotti da morte avrebbero comandato gli organi e poi generata la prova allo stesso modo che si comanda ai piedi quando si cammina in tal modo avrebbero compiuto l'unione sessuale senza ardore e passionale e avrebbero partolito senza dolore quindi qui il discorso che fa Sant'Agostino è questo qui nello stato di natura integra c'è un dominio perfetto delle membra comprese quelle membra noi sappiamo bene che gli stati legati perdonatemi il linguaggio esplicito però se non ci capiamo all'eccitazione sessuale non sono volontari uno non può autoindurseli deve essere in qualche modo provocato deve essere sollecitato d'accordo? quindi e una volta sollecitato come dire gli sfoga in modo tale che però come dire la soddisfazione e il compimento di quel tipo di atto avviene di nuovo non perché c'è una volontarietà perché io decido di ma perché conseguentemente al compimento di quel tipo di atto e a quella sollecitazione reiterata e continuata nel tempo avviene poi la consumazione del piacere sessuale e dice no no non era così l'atto sarebbe stato esente dal pulito della concupiscenza di conseguenza gli organi genitali non si sarebbero mossi tra lo stimo delle passioni indipendentemente dalla volontà dell'uomo ma sarebbero stati obbedienti al suo comando invece a causa del peccato l'uomo e la donna hanno meritato di risentire nel loro membra il modo della legge che è in guerra contro la legge dello spirito questa è la evoluzione l'ultima opera di Sant'Agostino è il Denupsis et concupiscenza stavolta stiamo nel 418 e stavolta Sant'Agostino ce l'ha con un pelagiano Giuliano di Eleano sappiamo che i pelagiani negavano l'esistenza della concupiscenza dicevano che il peccato originale commesso da Adamo non è un qualche cosa che ha degradato il genere umano e ha comportato un suo peggioramento lasciandoci in eredità appunto quella cosa che la Chiesa chiama vomito concupiscenza quindi quella tendenza dentro di noi che sentiamo verso il basso e che si manifesta in maniera particolare negli ardori della libido non lo dicevano non c'è niente tutto questo qui e Sant'Agostino scrive quest'opera per evidentemente confutarlo e quindi cercherà di distinguere la bontà del matrimonio e la concupiscenza che sono due cose distinte in modo da dimostrare che la concupiscenza della seconda è soltanto il mezzo attraverso il quale si propaga il peccato originale nella generazione vediamo questi scritti primo episodio primo episodio anche questo città nuova le opere di Sant'Agostino sono quasi tutte reperibili poche sono inedite o forse anche nessuna che adesso non è il mio campo di competenza però le opere di Sant'Agostino ti riempiono completamente una almeno una libreria grossa di casa non avvertono che non si può accusare la bontà del matrimonio per il male originale che adesso si contrae allo stesso modo che non si può scusare la malizia dell'adulterio e della fornicazione per il bene naturale che ne deriva ecco dunque lo scopo di questo libro distinguere per quanto Dio si denverà di aiutarmi dalla bontà del matrimonio il male della concupiscenza carnale a causa della quale l'uomo che per essa nasce contrae il peccato originale questa vergognosa concupiscenza che dagli spudorati viene spudoratamente rodata non esisterebbe neppure se l'uomo non avesse peccato il matrimonio invece esisterebbe lo stesso anche se nessuno avesse peccato già che la generazione dei figli nel corpo di quella vita avverrebbe senza questo morto senza del quale ora nel corpo di questa morte non può avvenire ora siamo nella fase matura del pensiero di Sant'Agostino che si ormai stabilizzato nella convinzione che la generazione tramite unione sessuale non è sopraggiunta dopo il peccato e a causa di esso ciò che è sopraggiunto dopo il peccato questo lo ribadisce è nell'attuale modo di generare la presenza della concupiscenza solo questa non sarebbe esistita se l'uomo non avesse peccato mentre il matrimonio intendendo nel matrimonio anche l'unione sessuale e quindi lo stato di non verginità sarebbe esistito lo stesso alcune alcune pagine dopo parlando degli sposi che di comune accordo decidono di astenersi per sempre dal compimento degli atti coniugali e quindi dall'uso della concupiscenza carnale San Agostino indica come un modello di attissimo di questo Maria Santissima e San Giuseppe l'unione dei quali realizzò tutti i beni propri del matrimonio prole fedeltà e sacramento e scrive soltanto l'atto coniugale di fu assente il matrimonio tra Giuseppe e Maria perché nella carne di peccato non poteva essere compiuto senza quella concupiscenza della carne che viene dal peccato e senza la quale vuole essere concepito colui che doveva essere senza peccato non nella carne di peccato ma nella rassomiglianza della carne di peccato così ci insegnava pure che ogni carne che nasce dall'unione carnale è carne di peccato dal momento che solo la carne che non nacque da essa non fu carne di peccato quindi ogni carne che nasce dall'unione carnale su questo Sant'Agostino si è visito di nuovo in conformità alla tradizione è carne di peccato però praticamente cosa sta dicendo Giuseppe e Maria non potevano stare insieme perché Giuseppe la Madonna no ma Giuseppe il peccato originale l'aveva contratto sicuramente e quindi Giuseppe era un corpo di peccato quindi un'unione senza concupiscenza non sarebbe stata possibile e quindi non poteva farsi detto proprio in due parole quindi con questo ci siamo già detti tutti il discriminante per Sant'Agostino tra il prima e il dopo non è più l'atto ma la concupiscenza con cui l'atto viene posto in essere ancora altro testo se invece interrogassimo la concupiscenza della carne a causa della quale diventano vergognosi quegli organi che prima non lo erano certamente essa dovrebbe rispondere di aver incominciato ad esistere nelle membra dell'uomo dopo il peccato e di essere chiamata secondo l'espressione dell'apostolo legge del peccato per il fatto di aver asservito a sé l'uomo perché costrui non vuole assoggettarsi al proprio Dio direbbe ancora di essere proprio lei quella di cui arrossirono i primi sposi quando coprirono le parti vergognose e di cui arrossiscono coroggi tutti gli sposi quando cercano luoghi appartati per compiere l'atto sessuale e non osano avere a testimonia di interazione neppure figli che hanno così generato quindi prendendo come esempio il fatto che tutti gli sposi arrossiscono quando compiono l'atto sessuale ai tempi di Santa Agostina adesso gli arrossamenti credo che siano se si perdoni questa battuta un po' amara molto diminuiti mettendo a confronto questa affermazione con Sant'Ambrogio ricorderemo nell'esortazione alla virginità anche Sant'Ambrogio diceva che prima del peccato i gonogi non avevano di che arrossire ma per Sant'Ambrogio questo era dovuto al fatto che vivivano nello stato di virginità per Sant'Agostino invece avrebbero compiuto ugualmente l'atto sessuale ma senza concupiscenza che sola è la causa della vergogna ultimo brano ce l'abbiamo fatta a completarlo Sant'Agostino con una romana con una sola catechesi soltanto la ligenerazione rimette il reato di questa concupiscenza il battesimo che la generazione si trae dietro ciò che è stato generato si è dunque rigenerato perché non è possibile rimettere altrimenti ciò che è stato contratto che una cosa rimessa nei genitori sia contratta dai figli è fatto certamente straordinario tuttavia è reale dice se ai genitori è stata rimessa il peccato originale come mai quello trasmetto ai figli è reale per disposizione della linea provvidenza questi fatti invisibili incredibili per coloro che non credono non di meno reali trovano invisibili esempio in certi alberi perché non dovremmo credere che a questo scopo è stato risposto che dall'olivo nasca l'oleastro non dovremmo credere che in una cosa creata d'uso dell'uomo il creatore abbia voluto disporre e stabilire qualcosa che avesse valore di esempio del genere umano è un fatto straordinario che persone liberate dal vincolo del peccato mediante la grazia generano tuttavia dei figli irretiti dallo stesso vincolo dal quale devono essere liberate allo stesso modo lo confesso è straordinario vedete qui però si è un po' incartato Sant'Agostino perché dice il suo discorso c'ha una mina e concludiamo bene l'unica differenza che c'era tra il primo e il dopo è che c'è la concubiscenza d'accordo però i territori sono stati battezzati e quindi come mai che quando concepiscono pur nella concubiscenza trasmettono il peccato originale come interrogativo soltanto la rigenerazione rimette il reato di questa concubiscenza dice che la generazione si trae dietro e ciò che è stato rigenerato sia dunque rigenerato perché non è possibile rimettere altrimenti ciò che è stato contratto che una cosa rimessa nei genitori sia contratto dai figli è certamente un fatto straordinario attenzione questo perché allora un ragazzino che nasce non eredita solo la concubiscenza attenzione qui dobbiamo essere chiari anche cioè ecco perché cioè il battesimo dei bambini l'abbiamo già detto e da fare quanto prima possibile è una cosa fondamentale perché un bambino non eredita solo le conseguenze del peccato originale ma il peccato originale stesso che attenzione i genitori non hanno più perché dopo il battesimo il reato della concubiscenza cioè la presenza di un peccato originale in sé come proprio viene cancellato quindi tu trasmetti un peccato che tu non c'è più perché quello che è rimasto ai genitori è solo l'effetto e la conseguenza della macchia d'origine come è possibile ah questo è un fatto straordinario che devo alzare le mani e fa questo esempio dell'olivo dell'oleastro tra l'altro io non so neanche non sono un botanico quindi non so quale fondamento possa avere oggi a 1500 anni di distanza quindi questo fatto straordinario che Agostino riconosce e cioè che da genitori liberati del peccato originale nascono figli ancora macchina del suo stesso peccato per Ambrogio e tanti altri autori è causato dal modo stesso di generare mediante unione sessuale ed è quindi connaturato a tale modalità di procreare per Agostino è venuto dal fatto che il battesimo cancella la macchina del peccato d'origine ma lascia nei battezzati formi della concupiscenza che inevitabilmente contamina l'atto generativo e coloro che saranno generati Agostino poi riprenderà ulteriormente queste considerazioni ribadendo in tutte le altre opere della sua motuità Decivitate Dei Contra Iulianum Contra Iulianum Ocus Imperfectum eccetera però c'è questo anello debole bene con la prossima volta ci introdurremo negli ultimi autori e padri orientali dopodiché la sezione patristica è terminata e dovremo fare un po' un punto della situazione certo non è un momento breve perché soltanto Massimo il confessore ci porterà parecchio tempo poi una lunga disamina biblica e poi andremo a vedere l'ultima parte quello che alcuni mistici hanno detto al riguardo e poi alla fine concluderò al termine di questa lunga carrellata che ci porterà via con le diverse puntate dicendo umilmente quello che penso ci vediamo alla prossima Dio vi benedica la montagna sempre vi protegga e a presto